Abbiamo voluto oggi sottoscrivere assieme al Presidente Cantone un documento dove sono indicate le linee guida che abbiamo scelto nella città di Roma per verificare la correttezza e la trasparenza di tutti i lavori che verranno eseguiti per il giubileo straordinario della misericordia voluto da Papa Francesco. Per me, per l'assessore Cucci, per l'assessore Isabella è un altro passo importantissimo perché è quel passo di discontinuità amministrativa e anche di cultura amministrativa rispetto a quanto era accaduto nella città di Roma con la giunta alemanno che aveva permesso l'ingresso della criminalità organizzata nelle stanze del Capito. Noi abbiamo chiuso porte e portoni e vogliamo che d'ora in avanti l'amministrazione della nostra città sia un esempio per tutta la città.